Noi la facciamo la foto di gruppo, noi la facciamo. Io da qui vorrei sommessamente invitare Presidente Monti a fare la foto di gruppo con Fini e Casini, Ingroia a fare la foto con Ferrero e Di Pietro, Berlusconi a fare la foto con Storace e con Maroni, così poi la gente vede, fa le domande, chiede risposte. Io sento un minimo di irritazione per il fatto che noi di essere naturalmente vivisezionati su questo o quell'altra sfumatura e di tutto il resto. Nessuno parla, anzi si fanno di nebbio. Qui esistono delle coalizioni a confronto, vengano fuori chiaramente e così poi discutiamo in trasparenza davanti ai cittadini.